Si svolgerà sabato 25 giugno a Porto Cesario sul lungomare di Ponente la cerimonia di consegna dell'alto riconoscimento Virtù e Conoscenza, un premio che vede protagoniste e personalità locali e non tutte impegnate sul tema dell'intercultura e dell'interscambio di conoscenze, finalizzate a dare risonanza al nostro territorio e al suo patrimonio nell'area del Mediterraneo. Il concorso, diviso in cinque sezioni, si è posto l'ambizioso obiettivo di individuare altrettante personalità tramite libera segnalazione pervenuta da associazioni ed enti senza scopo di lucro. La giuria, presieduta dal professor Giuliano Volpe, presidente del Consiglio Superiore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha nominato i seguenti vincitori. Premio alla memoria per Giulio Reggeni, giovane economista, giornalista, esperto in cooperazione allo sviluppo del mondo arabo, morto tragicamente in Egitto. Maid Ben Aziza, economista, filosofo, scrittore e rettore dell'Università di Tunisi, per il suo inesauribile impegno nel sociale, per aver favorito la cooperazione e il dialogo interculturale nel bacino del Mediterraneo. Cosimo Durante, presidente del GAL Terra d'Arneo e della Fondazione Città del Libro, per la sua instancabile opera di tutela, valorizzazione e promozione del territorio salentino e dell'Arneo. Daniela De Donno, operatrice di pace, volontaria in Africa, per il suo altruismo, la sensibilità e l'impegno profuso per la protezione della natura e lo sviluppo sostenibile. Luigi Ricciardi, originario di genetica agraria presso l'Università degli Studi di Bari, per il suo infaticabile operato profuso nella salvaguardia, conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale tipicamente pugliese e mediterranea. E poi altri premi per Clodiana Cucca, cittadina italiana di origine albanese, presidente dell'associazione Integra Onlus, per il suo quotidiano impegno a favore dell'integrazione multiculturale. Enzo Del Vecchio, giornalista inviato Rai, ambientalista, curatore di documentari e di popolari trasmissioni televisive, sempre pronto a denunciare abusi e inefficienze, così come a sottolineare le buone pratiche che valorizzano le eccellenze della Puglia. Frédéric Briand, Mare Nostrum, cittadino francese, direttore generale della Commissione Scientifica del Mediterraneo, per aver promosso la collaborazione tra i popoli del Mediterraneo attraverso un'intensa attività di diplomazia scientifica. Gino Colelli, speciale Mare Nostrum, pescatore, persona umile di alta moralità, per aver rinvenuto nel lontano 1932, quando era un bambino, nel mare di Porto Cesario, la statuetta risalente al VI secolo a.C., rappresentante il dio Thoth, divinità egiziana della scienza e della sapienza, divenuta con l'istituzione dell'alto riconoscimento, virtù e conoscenza, simbolo di dialogo, integrazione, collaborazione e pace.